Buongiorno dalla redazione di Florence TV, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori tra Ginestra, Fiorentina e La Strassigna si segnalano 3 km di coda in direzione Firenze e 1 km di coda in direzione Livorno, spostandoci in A1 in direzione Bologna per lavori corsie interne chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e ci sono 2 km di coda tra Incisa, Reggello e Firenze in Bruneta. Infine per quanto riguarda la 11 in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Prato e Ovest e l'allaggiamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!